buongiorno amici un salutone dal vostro adobora allora volevo andare avanti subito con il libro scardinare il sistema tecnogeno e precisamente parlare del capitolo intitolato ho visto un arcobaleno partiamo subito questa volta ho deciso di fare quello che faccio rarissimamente invece di pubblicare le lettere che parlano di problemi pubblicare delle storie di successo di queste ne ricevo molte potrei comporne un grosso libro credo che vi possa interessare sapere come molta gente riesce a realizzare il transurfing con successo partiamo ho deciso di scriverle e raccontarle cosa precisamente mi è riuscito e come ho incominciato a leggere il transurfing in 78 giorni il lavoro previsto dal libro è andato subito bene anche perché avevo un forte desiderio di liberarmi da una depressione che stava incombendo lamentarsi e rattristarsi sono lusso che non ci si può concedere a titolo sperimentale mi sono creata l'intenzione di cercare un lavoro nuovo e più interessante molti principi del libro come quello di aspettarmi dal mondo solo il meglio e di avere una ferma sicurezza nella propria stella coincidevano con quello che avevo cercato di fare fino a quel momento il risultato è stato che la ricerca di lavoro si è conclusa con successo e ora è già da tre mesi che sono insediata nel mio nuovo posto praticamente i principi del libro erano tutto quello che avevo usato per convincere il mio intelletto a ritenere che tutto funzionava a meraviglia non mi soffermo nemmeno a parlare dei piccoli colpi di fortuna come i mezzi di trasporto che arrivano al momento giusto e oltre piacevoli casualità ora come ora mi sto occupando della proiezione di un intero complesso di scene che prevedono dei cambiamenti molto più significativi della semplice ricerca di un lavoro interessante i cambiamenti si stanno delineando con gradualità del resto la sfera di azione è piuttosto ampia non nascondo che ci sono ancora allora non nascondo che ci sono ancora volte dei momenti che mi inducono allo scavo interiore e al masochismo mentale ma in questi casi mi faccio aiutare dalla cura del corpo fisico cioè docce di contrasto deliziose insalate lunghe passeggiate esercizi di ginnastica o cerco di reindirizzare la mia attenzione verso il mondo circostante comprese le persone che mi stanno vicino comunque comunque sia ultimamente il mondo attorno a me è diventato come un enorme meccanismo che prima sono riuscito a fermare e poi a far girare in direzione opposta certo all'inizio tutto ciò procedeva fatica constridì ma ogni giorno che passa mi accorgo che gli ingranaggi ruotano sempre più velocemente per quanto riguarda la trasgressione mi è venuto in mente un caso che mi è successo alcuni anni fa e da più di dieci anni che porto senza mai toglierlo un anello che avevo comprato quando ero ancora adolescente un giorno improvvisamente quest'anello mi era scomparso dal dito in altri tempi mi sarei demoralizzata ma allora i miei pensieri seguirono un altro corso non so perché era come quando si fa un sogno reale e poi ci si sveglia e si cerca di capire se quello che si è visto è successo veramente o si è solo sognato quella volta aveva avuto una sensazione simile mi ricordo perfettamente ancora adesso le prime scene metto la mano in borsa e quando la tira fuori ho di nuovo l'anello al dito in quel momento non mi ero nemmeno sorpresa avevo guardato il mio anello l'avevo accarezzato e in uno stato quasi letargico avevo continuato per la mia strada adesso leggiamole un'altra una volta l'inverno scorso mentre passeggiamo verso sera cercavo di praticare la visualizzazione del mio fine mi immaginavo la mia futura casa ed essa era già presente nei miei pensieri vedevo come ne avevo organizzato gli interni vedevo l'arredamento e la mia famiglia già dentro questo quadro non mi soffermo sui particolari degli esterni di come la mia casa stava rispetto al sole vedevo tutto e mi immaginavo di come entravo in cucina vedevo lì mia moglie sentivo nelle stanze la luminosità del giorno vedevo i raggi del sole che entrando dalle finestre si disperdevano sul pavimento sentivo il calore dell'energia del sole così piacevole al tatto dei piedi scalzi fantastico scrivo queste righe ora mentre mi trovo lì all'interno di questo spazio ebbene allora alla fine della mia passeggiata avevo deciso di praticare la transazione era il crepuscolo una parte della giornata che io adoro perché meglio delle altre mostra le meraviglie del nostro mondo non è né chiaro né buio né caldo né freddo un'ora in cui io sento profondamente l'armonia assoluta del mondo è una fase effimera nell'arco di pochi minuti il chiaro si fa scuro ma quando riesco a cogliere il momento di questo passaggio provo un senso di mite entusiasmo era successo anche questa volta ma in tutto ciò in modo incomprensibile era avvenuto anche una fusione nello spazio della causa e dell'effetto tutto era qui e adesso in strada c'era molta neve dopo la nevicata del giorno precedente per questo dovevo fare attenzione nell'attraversare la strada durante il giorno poi la neve si era sciolta e verso sera si era formato una crosta di ghiaccio ma a parte ciò la mia passeggiata serale si stava svolgendo senza particolari problemi per arrivare a casa mi restava solo da attraversare una stradina e imboccare il marciapiedi già spalato dalla neve nel momento stesso in cui appoggiai il mio piede sinistro sul marciapiede pulito e il mio piede destro era pronto a seguire il movimento del sinistro la mia attenzione al fine di scongiurare ogni pericolo di scivolamento si concentrò sul bordo in quel momento in quel momento ebbi una visione era un frammento di realtà di forma indeterminata con i bordi esterni strappati ma con un contorno ben indelineato com'è in un planisfero un'isola nell'oceano ma guarda che roba pensai capendo che non era un sogno ma un fenomeno che era avvenuto realmente nell'istante che ero riuscito a cogliere grazie alla luce tipica del crepuscolo il quadro si presentava di ottima definizione solo che non aveva particolari abbellimenti come succede nei sogni a colori pur non essendo inferiore ai sogni per illusione di realtà non so perché ho deciso di raccontare proprio questo episodio forse forse perché era più vivido rispetto agli altri come una stella che come una stella che brilla all'improvviso in un cielo stellato pulito e di cui si è certi che un secondo prima non ci fosse o forse perché quello che avevo osservato il giorno prima sopra la mia testa mentre praticavo la praticavo la visualizzazione era un segmento di arcobaleno in un cielo che non prometteva alcuna pioggia e l'arcobaleno mi aveva indotto a pensare che nei dieci minuti in cui esso era apparso in pochi l'avevano notato come spesso succede chi è occupato a far la spesa chi dorme chi beve mentre io avevo visto quest'arcobaleno forse proprio questo è la felicità amici leggiamo anche questa quando mi proietto in testa il fin del mio fine immagino la mia vita futura quello che trasformerà la mia vita in festa sono un esperto di finanza ho una famiglia meravigliosa eccomi al lavoro nel mio ufficio al trentesimo piano di un grattacielo entro nel mio ufficio mi sedo sulla mia poltrona vicino alla finestra alzo le veneziane e ammiro il panorama resto senza fiato entra la segretaria con la posta prendo in mano il tagliacarte per aprire le buste il manico del tagliacarte è comodo di legno apri una lettera la carta di qualità fruscia sotto le dita la lettera contiene un invito a un anniversario della mia università poi vado in riunione mentre faccio girare nella mia testa questo film ho la piena sensazione di essere un asso nel mio lavoro di essere uno specialista di classe mi immagino che dopo il lavoro vado a cena con mia moglie o a giocare a tennis con un amico e poi volo via a new york in trasferta di lavoro poi mi immagino mentre sono a casa mi sveglio perché mio cane carlino cerca di salire sul mio letto ma è grassoccio e non ci riesce mi alzo in casa c'è odore di pane fresco mi avvicino alla vetrata enorme dal pavimento al soffitto la apro ed esco in terrazza davanti a casa c'è un piccolo lago e vedo i miei figli che stanno giocando lì vicino e così via faccio in modo di cambiare le mie diapositive e di tornare il più spesso possibile a vederle un giorno mi vedo mentre giro per l'europa con la mia famiglia il giorno dopo mentre sono in trasferta di lavoro in siberia il giorno successivo mi vedo altre al teatro marischi e in tutte queste scene rimane costante la sensazione che si tratta della mia vita tutto ciò che vedo intorno a me sono le mie cose sento ascolto vedo tutto ciò mi piace molto mi sento bene perché sono riuscito ad ampliare notevolmente la zona del mio benessere se prima perdevo tempo a pensare a come poter fare a raggiungere la realtà dei miei sogni ora non ho più di questi problemi so che avrò e basta tutto sta andando come deve e il mondo mi sta venendo incontro sono già successi un sacco di cose cui solo poco tempo prima non avrei potuto credere però non molto tempo fa nel forum ho letto che non si possono proiettare diapositive composte che è come se io non vivessi nella mia vita come fare la risposta di vadin zela lei sta facendo tutto correttamente continui pure a crearsi la sua realtà virtuale e a vivere in essa se lo farà se lo farà sistematicamente otterrà il suo film nella realtà bene amici e per questo capitolo è tutto non mi rimane che dirvi innanzitutto se volete commentate pure e scrivete cosa vi è piaciuto di più di queste lettere e se vi sta piacendo ovviamente questo libro e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati nell'uscita di ogni nuovo video sul canale e mi raccomando ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene e ci vediamo al prossimo capitolo ciao